ciao a tutti siamo pronti per andare avanti con la nostra coreografia diciamo che eravamo arrivati a questo punto andiamo avanti con questa sequenza allora ho due volte batto il piede un due cambio il peso tre quattro cambio il peso vado cinque sei ritorno avanti di nuovo sette otto e cambio un due tre quattro cinque sei sette otto ok le braccia sono in questa posizione come se volessero stuccare le dita ok abbastanza rilassate e seguo il movimento un due tre quattro cinque sei sette un due tre quattro cinque sei sette ok sono sequenze facili ok riprende non confondersi con i piedi quindi sempre due un due cambio un due dietro ribatto avanti di nuovo un due e di nuovo un due tre qua dietro e due due ok proviamo con la musica ok come sentite poi partirà il ritornello ok questa sequenza come dicevo non è complicatissima bisogna avere un attimo di coordinazione dei piedi le mani rimangono più o meno sempre nella stessa posizione ok direi che anche con oggi con questo tutorial ci fermiamo qui prossima volta inizieremo a vedere il ritornello ciao alla prossima ciao 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 ciao